Sono nato a Bodio nel 1796. Conclusi gli studi, rinunciai alla tonaca per seguire il mio sogno. Mi dica il paese, di che cosa ha più bisogno? Istruzione. Una scuola pubblica, laica e accessibile a tutti. Mi sono battuto per trasformare la Svizzera in una vera repubblica democratica. La democrazia è universale, non vale, mi scusi, soltanto per i più agiati. E ho sempre creduto che solo cittadini ben istruiti avrebbero potuto votare con piena coscienza del valore della res pubblica. Ho coordinato i progetti per il Politecnico federale. A noi serve un moderno sistema scolastico e subito un istituto federale superiore. Ho diretto il Dipartimento dell'Interno per tutta la mia carriera. Il mio nome? Stefano Franscini, padre della popolare educazione in Ticino. Gli Svizzeri, prossimamente alla RSI.